Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di un argomento che è stato un po' sottovalutato in passato e oggi è tornato in voga quanto mai prepotentemente, ovvero la creazione di file GIF attraverso l'applicativo di Photoshop. Perché è tornata in voga questa cosa? Fondamentalmente perché c'è la possibilità di creare delle GIF personalizzate e incapsularle su Instagram in maniera tale da poterle utilizzare come sticker. Quindi nel momento in cui io apro l'applicazione di Instagram nelle storie vado ad aprire il bottone degli sticker e posso, cercando delle parole chiave che io stesso ho deciso, posso andare a richiamare una GIF di mia creazione e incapsularla nei miei contenuti, nelle mie storie. Quindi può essere un logo animato, può essere una scritta, qualsiasi cosa. Può essere incapsulata all'interno del motore di Instagram e può essere quindi richiamata da me o anche da altri utenti in giro per il mondo in maniera tale da essere utilizzato alla bisogna. Per creare GIF ci sono tantissimi modi diversi ovviamente. Si può prendere un file, anche video, e caricarlo su delle piattaforme dedicate anche online, anche gratis, che ce lo convertono in GIF. Quindi noi possiamo avere una scena di un video, un'ospezione di un video, abbiamo presente i miliardi di meme che girano online dove c'è l'attore che muove le labbra e dice la frase famosa e sotto c'è scritta la frase del meme. Quelle sono GIF create da video, ma noi andiamo a vedere un altro tipo di GIF, qualcosa di più personalizzato. In particolare ci interessa scoprire come si realizzano le GIF trasparenti, quelle senza lo sfondo. Quindi se noi vogliamo avere un logo con lo sfondo trasparente, una scritta con lo sfondo trasparente, in modo da poterla applicare sul nostro contenuto. Ecco che Photoshop torna in auge perché è uno dei pochi applicativi che ci consente di realizzare questo tipo di GIF con lo sfondo trasparente in maniera professionale. È vero che esiste la possibilità di gestire diverse componenti anche in ambito video e poi trasformarle in GIF, ma abbiamo continuamente il problema dello sfondo che non rimane trasparente oppure della qualità che deteriora. Mentre Photoshop ci permette di esportare una GIF fatta e finita che noi possiamo prendere e incapsulare all'interno di Instagram. Una premessa doverosa. Il processo mediante il quale si caricano le nostre GIF su Instagram è un po' complicato. Noi dobbiamo crearci un account sulla piattaforma Giphy. È la piattaforma diciamo gemellata con Instagram per quanto riguarda la creazione e la condivisione delle risorse GIF. Nel momento in cui noi creiamo l'account, carichiamo le nostre GIF su Giphy, a questo punto saranno disponibili sulla piattaforma Giphy. Per renderle disponibili anche su Instagram bisogna fare richiesta a Giphy di avere un account business, mi sembra che si chiami. Comunque un account adatto ad avere questo tipo di relazione con Instagram. È una cosa che è sottoposta a una verifica e deve essere approvata. E Giphy ci darà la sua approvazione solamente se il nostro account è abbastanza seguito. Ovviamente non ci darà l'approvazione a caricare 100 GIF stupide se abbiamo 100 follower. Dobbiamo averne almeno 10.000. Se ci presentiamo con 10.000 follower, la maggior parte delle persone ormai hanno 10.000 follower. Io conosco un sacco di ragazzi e ragazze di 14-15 anni che hanno 40.000 follower, quindi ce li abbiamo tutti 40.000 follower. Non è quello il problema. Nel momento in cui abbiamo un seguito sufficiente possiamo fare richiesta a Giphy dichiarando questo è l'account di Instagram connesso a con cui vogliamo fare questa operazione. A quel punto ci viene consentito di caricare le nostre GIF attraverso Giphy e di ritrovarcele su Instagram. Questo significa semplicemente che sarà una comodità per noi perché potremmo digitando la parola chiave che abbiamo scelto, che potrebbe essere il nostro nome, il nome del nostro account, possiamo richiamare le nostre GIF che possono quindi essere incapsulate nei nostri contenuti. Possono farlo anche altri, nel senso che una volta messi a disposizione di tutti, anche altre persone, se digitano quella parola chiave all'interno della tab degli sticker, possono trovare il nostro sticker e utilizzarlo nei loro contenuti, che non fa mai male perché così il nome gira, c'è più condivisione, eccetera. Una nota doverosa. Fate molta attenzione nel momento in cui avete l'approvazione di Giphy, fate molta attenzione a che cosa caricate. Perché se voi caricate il vostro logo, il logo connesso all'account, al nome dell'account di Instagram con cui avete fatto la richiesta, non ci sono problemi. Potete caricare tutto quello che volete. Potete caricare il logo in più versioni, potete caricare il logo in più colori, potete caricare delle GIF diverse che fanno cose diverse. Non dovete però caricare altri loghi. Nel momento in cui ho caricato il mio logo, facciamo un esempio, ho caricato il logo di Flerscape, quello viene accettato. Nel momento però in cui io vado a caricare il logo di Nike, il logo di Adidas, non necessariamente loghi famosi. Nel momento in cui anche vado a caricare un altro logo, magari di un mio amico che non ha abbastanza follower e quindi chiede a me di caricargli il logo, ecco che Giphy se ne accorge e ci disabilita la condivisione. Proprio per evitare che ci sia questo tipo di compravendita. Se io abilito l'account per il mio logo, per il nome dell'account che ho connesso, posso caricare solo quello di logo. Non posso mettermi a caricare altri 100.000 loghi. Perché a quel punto per Instagram noi stiamo sostanzialmente chiedendo soldi ad altri utenti per caricargli delle cose. E quindi ci viene bloccato l'account. Fate attenzione a che cosa caricate. Se caricate il vostro logo va bene. Se caricate una frase simpatica, senza loghi, va bene. Se cominciate a caricare loghi di terzi, venite bloccati. Quindi questo è importante da tenere a mente. A questo punto io direi che possiamo tuffarci dentro nell'applicativo di Photoshop per vedere quali sono le possibilità che abbiamo per creare queste GIF. Le possibilità sono tante. Cercherò di farvele vedere in modo più esaustivo possibile. Ovviamente se avete delle domande o delle cose su cui non sono stato abbastanza specifico, vi aspetto nei commenti. Eccoci qui all'interno di Photoshop. La prima cosa che andiamo a fare è creare un nuovo documento. Lo creiamo quadrato, 2000 pixel di lato, così sarà più facile da gestire. Manteniamo una risoluzione di 72 dpi. Lavoriamo in RGB a 8 bit. Sfondo bianco non ci serve, mettiamo trasparente. Andiamo a impostare il profilo colore sRGB, che è lo standard per tutto quello che riguarda il web. Manteniamo sempre i pixel quadrati e andiamo a creare il nostro documento. Eccolo qui. Ci troviamo con un documento che contiene un livello. Photoshop per definizione deve avere almeno un livello, anche se vuoto. In questo caso appunto il nostro livello è vuoto. Per andare a lavorare immediatamente sulle nostre GIF, la cosa che dobbiamo fare è aprire questa tab che si chiama Timeline. Se non dovesse essere presente, possiamo andare a recuperarla ovviamente dal pannello finestra. Ora, all'interno della nostra Timeline noi possiamo compiere una serie di azioni, ma per compiere delle azioni dobbiamo avere degli elementi all'interno del nostro progetto. Per cui, la prima cosa che andiamo a fare, andiamo a creare un livello di testo nero, dopodiché creiamo un nuovo livello. All'interno di questo nuovo livello io vado a creare un quadrato e lo riempio con un colore che potrebbe essere rosso, per esempio. Dopodiché vado a creare anche una forma vettoriale. In questo caso facciamo un secondo quadrato e gli diamo un altro colore, così li distinguiamo. Per cui, all'interno del nostro progetto, noi adesso abbiamo tre elementi. Abbiamo una scritta, che può essere ovviamente quello che desiderate, in questo caso è solamente dimostrativa. Abbiamo un livello raster e abbiamo un livello invece che è una forma vettoriale. A questo punto, all'interno della nostra Timeline, noi possiamo segnalare all'applicativo che vogliamo creare una GIF o comunque un qualcosa di animato, dicendogli Create Frame Animation. E a questo punto vedete che abbiamo un primo frame che in questo momento è impostato su 0 secondi. Ovviamente 0 secondi non è una cifra con cui possiamo lavorare, per cui andiamo a dargli 0,5. Una cifra qualunque che non sia 0, ovviamente. Questo qui è il primo frame della nostra GIF. Ci mostra, quindi, l'anteprima che sono visibili tutti gli elementi. Ora, noi possiamo nascondere degli elementi oppure mostrarli. Nel momento in cui nascondiamo degli elementi, la nostra azione si ripercuote sul frame che abbiamo selezionato. Nel momento in cui io vado a duplicare il mio frame, posso nascondere uno degli elementi e vedete che dalla relativa anteprima quell'elemento è sparito. Io posso creare un nuovo frame e riaprire questo elemento e chiudere quest'altro e vedete che di nuovo il cambiamento è visibile nella mia anteprima. Qui posso avere entrambi i livelli di colore visibile e nascondere il mio testo. A questo punto io posso mandare in play la mia gif e quindi quello che avremo è questo effetto. Ovviamente la durata può essere gestita. Io posso cambiare la durata di uno solo dei miei frame o di tutti quanti insieme. Posso modificarla. Nel momento in cui andrò in export, ovviamente avrò una gif più o meno lunga. In questo caso la mia gif sarà priva di sfondo, perché questa qui è una delle cose che ci interessano maggiormente perché è molto facile creare delle gif con lo sfondo ma è molto difficile creare delle gif trasparenti. In questo caso riusciamo ad avere la nostra trasparenza. Questa è la cosa che ci interessa maggiormente perché se abbiamo creato una gif con lo scopo di metterla su Instagram ovviamente vogliamo che lo sfondo rimanga trasparente. Ora ci rendiamo conto benissimo da soli che per quello che vi ho fatto vedere per adesso le applicazioni sembrano alquanto limitate ma andiamo a vedere com'è possibile creare qualcosa di carino anche semplicemente con questi semplici comandi. Andiamo per esempio a posizionare tutto in questo modo è assolutamente indicativo. Ora quello che andiamo a fare è intanto spegniamo questi due che per il momento non ci servono. Andiamo a lavorare unicamente sul testo. Noi andiamo a creare una maschera sul nostro testo e andiamo a riempirla con il colore nero per cui abbiamo reso invisibile la nostra scritta. A questo punto togliamo la catena che lega la maschera al nostro livello di testo e andiamo a lavorare unicamente sulla maschera. Abbiamo quindi un primo fotogramma in cui non c'è niente di visibile ne creiamo un secondo e in questo secondo fotogramma spostiamo la maschera in modo da rivelare la lettera M. Creiamo a questo punto un nuovo fotogramma e andiamo nuovamente a spostare vedete che probabilmente avete capito dove vado a parare. Nel momento in cui io vado a scoprire le lettere l'anteprima ce lo conferma abbiamo una scritta che si va man mano delineando. Quindi siamo in grado di scoprire la nostra scritta che a questo punto diventa una simpatica gif animata che ovviamente va a loop perché le gif è programmata per andare a loop e ripetersi meglio siamo noi che glielo diciamo in fase di export e questo è lo standard. In questo caso abbiamo lavorato su un'impostazione di questo tipo ci sono altre cose che possiamo fare perché ovviamente noi potremmo a un certo punto riaprire questi due livelli e gli potremmo dire per esempio che questa deve essere la nostra immagine finale gli potremmo dire che inizialmente vogliamo che questi livelli compaiano in questa posizione e successivamente che si spostino in quest'altra posizione così per andare poi a collimare laddove si trovano. Quindi il nostro risultato finale è questo. Ovviamente non è la cosa più bella dell'universo però vi fa ben capire quali sono le potenzialità di questo strumento. Ovviamente io a questo punto potrei anche modificare le durate per esempio gli potrei dire che sul finale deve durare un pochino di più. In questo modo riusciamo a vederla terminata e rimane lì un secondo di più riusciamo a vederla bene. Questa è una GIF che noi possiamo esportare e cominciare a incapsulare all'interno di Instagram. Andremo a vedere successivamente come si esegue l'export. Queste sono le potenzialità della timeline di Photoshop utilizzata nella maniera più semplice possibile semplicemente con i frame. Questo vi fa capire in minima parte quali sono le potenzialità del pannello timeline. e stiamo ancora utilizzando semplicemente i singoli frame. Adesso andiamo a vedere un altro giochino che potrebbe tornare utile in determinati casi. Andiamo a spegnere i nostri livelli andiamo a creare un secondo fotogramma e andiamo a riaccenderli. A questo punto li selezioniamo entrambi e qui abbiamo un bottone vedete questo simpatico bottone con questa scia. Se noi andiamo a premerlo stiamo sostanzialmente facendo un blend tra i frame che abbiamo selezionato e abbiamo la possibilità di decidere quanti frame aggiungere. Qui possiamo decidere ovviamente su che parte della selezione andare ad agire ma abbiamo solo due frame quindi li lasciamo così come sono. Abbiamo la possibilità di decidere su quali livelli verrà applicato l'effetto. Quindi io in questo caso gli potrei dire che voglio applicarlo a tutti oppure a quelli selezionati. In questo caso mi conviene applicarla a quelli selezionati. Quindi gli dico livelli selezionati. I parametri che tiene in considerazione in questo caso sarà unicamente l'opacità perché stiamo passando da un'opacità 0 a un'opacità 100 andiamo a dargli 12 frame aggiungeremo 12 frame e andiamo a dirgli ok. Vedete che sono stati aggiunti dei frame che durano tutti un secondo quindi siccome è troppo io adesso vado a dargli 0,2 in questo modo nel momento in cui mando play vedete che quello che succede è che abbiamo ottenuto questo effetto che poi una volta esportato sarà più rapido di così adesso sta laggando un po' perché fa fatica a mostrarcelo Photoshop non è pensato per creare questo tipo di animazioni in maniera fluida e quindi fa un po' fatica a mostrarcelo però l'effetto è che passiamo da un'opacità 0 a un'opacità 100 con un passaggio che sarà più o meno morbido a seconda di quanti step gli andiamo a dare. Questa è un'opzione comunque interessante perché ci permette di fare delle animazioni con degli elementi a comparsa. A questo punto però cambiamo completamente le carte in tavola andiamo qui sul menu e selezioniamo Convert to Video Timeline avremmo potuto passare a Video Timeline anche da subito invece di selezionare Create Frame avremmo selezionato Create Video Timeline lo possiamo convertire anche adesso per cui passiamo a una timeline video vediamo che l'interfaccia è lievemente diversa a questo punto andiamo a ridimensionare un pochettino il tutto in modo che riusciamo a renderci conto di quello che stiamo facendo qui abbiamo la possibilità di lavorare sulla timeline proprio come se fossimo all'interno di un software di editing video io qui ho la possibilità di zoomare avanti sulla porzione su cui sto lavorando stiamo lavorando su una porzione di 5 secondi che è perfino troppo per i miei gusti però teniamola così perché tanto va bene vedete che qui abbiamo la possibilità di lavorare sui nostri livelli separati quando ne seleziono uno qui sulla timeline lo seleziono automaticamente anche nella nostra tab dei livelli questo lo togliamo che non serve più a questo punto ci rendiamo conto che qui abbiamo delle opzioni all'interno del testo mygif abbiamo una serie di opzioni sul mio rettangolo abbiamo delle altre opzioni e sul layer 1 abbiamo delle altre opzioni ancora come potete vedere layer 1 è quello che ha meno opzioni di tutti perché è un livello raster è un livello composto da pixel mentre rettangolo 1 è una forma vettoriale e quindi ha più opzioni e il livello di testo mygif è appunto un livello di testo e quindi anche lui ha più opzioni andiamo a vederle successivamente adesso ci concentriamo solamente sul nostro testo anzi io li vado proprio a spegnere questi vedete che qui abbiamo una serie di opzioni tra cui abbiamo per esempio trasforma l'opzione trasforma viene abilitata da questo stopwatch nel momento in cui abbiamo abilitato vedete che possiamo mettere una serie di keyframe lungo il nostro percorso ogni keyframe che mettiamo determinerà un cambiamento in un dato punto della nostra timeline per cui per esempio diciamo che questo è il nostro risultato finale quindi noi ci posizioniamo a un certo punto tipo a 3 secondi e decidiamo che questo è il nostro risultato finale e attiviamo lo stopwatch quindi in questo punto la nostra animazione arriverà a questa posizione che è il finale torniamo indietro e possiamo a questo punto dargli una trasformazione come facciamo a dargli una trasformazione? per farlo dobbiamo andare su edit e trasforma è esattamente la stessa cosa che avremmo potuto fare premendo command t o ctrl t quindi io adesso vado a premere ctrl t in questo momento io gli posso dare una trasformazione posso decidere io quale nel senso che posso scalare, ruotare oppure distorcere se io per esempio vado a ruotare il mio livello di testo in questo modo e gli do ok vedete che è stato creato un primo keyframe a questo punto se io mando in play vedete che da questa posizione arriva alla posizione finale ovviamente io posso aggiungere delle cose nel senso che se torno su questo keyframe e nuovamente premo command t o ctrl t posso per esempio ridurre le dimensioni del mio livello e in questo modo vediamo che nel momento in cui manderò in play oltre a ruotare diventerà anche più grande quindi abbiamo inserito una modifica di trasformazione che prevede una rotazione e uno zoom ovviamente se io ho cambiato idea posso andare a selezionare i miei keyframe e cancellarli entrambi la mia gif è inalterata e rimane esattamente come era prima possiamo fare anche delle altre cose riguardo all'animazione che abbiamo fatto vedere poco fa per quanto riguarda l'opacità qui possiamo farla in maniera molto migliore nel senso che possiamo andare a selezionare un'opacità di 100% in questo punto possiamo poi posizionarci indietro sulla nostra timeline e andare in questo caso dal pannello livelli a diminuire l'opacità fino a portarla a 0 in questo modo vedete che il mio livello dal secondo 1 al secondo 3 passerà da opacità 0 a opacità 100 e non solo ma possiamo anche dargli un secondo keyframe più avanti in maniera tale che rimanga a 100% fin qui dopodiché possiamo posizionarci più avanti e nuovamente portare l'opacità a 0 in questo modo l'effetto che avremo sarà il nostro livello che compare, il nostro livello che rimane costante il nostro livello che torna a scomparire una volta che andiamo a esportare possiamo mettere a loop questa animazione che abbiamo fatto in maniera tale che si ripeta ciclicamente una cosa che non ho menzionato gli effetti di trasformazione valgono anche per lo spostamento per cui nel momento in cui noi abbiamo questo livello decidiamo che il risultato finale deve essere questo per cui impostiamo il nostro stopwatch per il nostro primo keyframe a questo punto in questo caso possiamo tornare indietro e possiamo spostare il nostro livello fuori dal frame a questo punto se andremo a premere play ne consegue che avremo un'animazione con il nostro livello in entrata e arriva esattamente in posizione potremo anche posizionarci successivamente più avanti e spostarlo fuori quindi la nostra gif finale potrebbe benissimo essere questa con il nostro testo che prosegue se vogliamo che il nostro livello rimanga stazionario possiamo fare un'altra cosa eliminiamo questo keyframe ci posizioniamo qui in questo punto la nostra gif è ferma per cui ci spostiamo avanti impostiamo un nuovo keyframe uguale al precedente per dirgli che da qui a qui deve rimanere uguale solo allora andiamo alla fine e diciamo che deve uscire di scena magari con un altro effetto a questo punto il nostro risultato finale sarà questo ovviamente possiamo poi andare a spostare questi keyframe per gestire i tempi con cui questi livelli entrano e escono possiamo andare a gestirli in maniera tale che si distribuiscano lungo l'arco della nostra animazione questo dipende dal nostro gusto e da quanto deve essere lunga la nostra animazione ovviamente a questo punto andiamo a vedere la terza opzione di modifica che abbiamo a disposizione si tratta di style come qualcuno di voi avrà già intuito style si riferisce a questo pannello per cui noi possiamo per esempio abilitare un keyframe sul pannello style dopodiché possiamo dare un vero e proprio stile al nostro livello per esempio gli potremo dare un gradient overlay e quindi vedete che andiamo a dare una sfumatura di colore al nostro livello a questo punto però non si ferma qui la cosa perché noi possiamo spostarci avanti possiamo andare a dargli nuovamente un altro gradient overlay e possiamo scegliere un altro colore andiamo a cercarne uno che vada bene con lo sfondo che abbiamo scelto ecco qua per cui vedete che abbiamo posizionato due keyframe vediamo che cosa succede se io lo mando in play come potete vedere il colore cambia passa dall'uno all'altro io potrei anche continuare a andare a dargliene un altro potrei andare a selezionare un altro colore andiamo sui viola potrei dargliene un altro ancora dico ok ed ecco qui il nostro keyframe eccoli qui tutti e tre a questo punto se io lo mando in play vedete che abbiamo una situazione che evolve nel tempo questa è una gif che potrebbe essere molto carina se noi impostiamo un parametro stile sopra al nostro testo e lo facciamo variare nel tempo questa già di per sé potrebbe essere una gif che gira tranquillamente così e potrebbe adattarsi a molteplici contesti perché cambiando il suo colore potrebbe essere visibile su qualsiasi tipo di sfondo ovviamente anche qui i keyframe possono essere spostati a piacere una volta che l'animazione è stata decisa e ovviamente possiamo dare a ogni keyframe non solo un gradient overlay ma uno qualunque di questi parametri per esempio potremmo anche decidere che a questo punto entra in gioco una drop shadow potremmo spostarla come siamo soliti fare all'interno di photoshop e questa drop shadow ovviamente comparirà in questo punto e scomparirà subito dopo perché in questi keyframe non c'è più potremmo anche metterci in questo punto e andare a mettergliela nuovamente più o meno con gli stessi parametri di prima e quindi avremo ottenuto un effetto un po' caleidoscopico di questo tipo in maniera tale che sembra che il nostro livello di testo venga illuminato da delle luci colorate che proiettano un'ombra di un certo tipo questa che è venuta fuori completamente a caso non me la sento di dire che è una gif che potrebbe essere carina se avesse un senso, se ci fosse un logo invece di un testo casuale è già una cosa abbastanza avanzata che noi possiamo tranquillamente esportare da qui e potrebbe finire tranquillamente caricata sul nostro account di instagram con il nome del nostro account o una promozione che stiamo facendo o una qualsiasi altra cosa che abbiamo desiderio di mettere in evidenza in quel momento molto bene, fin qui abbiamo scalfito la superficie di questo editor ma adesso andiamo a vedere qualcosa che è veramente molto carino ovvero il test warp editor nel momento in cui noi abbiamo deciso che cosa fare ovviamente ci posizioniamo a un certo punto decidiamo che da qui in poi la nostra animazione è finita quindi gli diamo un primo keyframe in questo punto ci posizioniamo poi indietro andiamo ad attivare lo strumento di testo andiamo a selezionare il nostro testo e andiamo ad attivare lo strumento warp che è questo bottone qui create warp text si aprirà questo pannello a questo punto vedete che come stile abbiamo nessuno al momento in cui noi andiamo a selezionare uno stile vedremo delle modifiche sul nostro testo per esempio io vado a selezionare twist e a questo punto vedete che posso andare a twistare il mio testo e posso andare a farlo come voglio io posso andare a dargli tutta una serie di parametri in maniera tale che rispecchi quella che è la mia idea nel momento in cui io gli do ok vedete che non è stato creato nessun keyframe e questo perché bisogna prima di tutto andare a convalidare la modifica in questo modo dopodiché andiamo a posizionare noi stessi il keyframe a questo punto ovviamente il mio testo passerà dallo stato iniziale fino alla nostra animazione finita questo processo può anche essere più rapido così forse rimane un pochettino più efficace a questo punto ci sono altre cose ovviamente che possiamo fare noi possiamo anche mescolare le tecniche perché a questo punto se io gli andassi a dire che voglio uno style normale in questo punto mentre in quest'altro punto voglio applicare un gradient overlay non avrei altro da fare se non chiederglielo e quindi ci troveremmo con un testo che viene modificato durante l'arco di tempo selezionato parimenti io potrei posizionarmi in questo punto e dirgli che la trasformazione deve essere terminata in questo punto ma gli potrei dire che sul primo keyframe io voglio che tutto questo livello sia più piccolo molto più piccolo addirittura tenendo premuto alt e shift in maniera tale da tenere bloccato il punto centrale e le proporzioni io potrei virtualmente portare questo livello a 0 vedete che l'ho portato a 0 e questo che cosa significa? significa che partirà veramente da 0 e andrà ad aprirsi in questa maniera ora in questo caso è stata introdotta anche una rotazione e ve lo spiego io perché è stata introdotta non era mia intenzione introdurla ma è successo che nel ridimensionarlo sono andato invece che rimanere a 0 e 1 sono andato a 0 e meno 1 quindi sono andato in negativo e quindi sostanzialmente l'ho ribaltata quindi abbiamo ottenuto questo ulteriore effetto che però non è male fa la sua porca figura questo è un esempio di come è possibile editare in maniera abbastanza professionale una gif di testo all'interno di photoshop questi sono effetti in particolare che funzionano sul livello di testo perché il text warp per esempio funzionerà solamente su un livello di testo mentre tutto il resto lo ritroveremo anche sugli esempi successivi ora se per puro caso avessimo cambiato idea volessimo eliminare tutto quello che abbiamo fatto non dobbiamo fare altro che selezionare i keyframe con delete andare a cancellarli ovviamente questo è un effetto quindi è rimasto lo andiamo a rimuovere manualmente e possiamo prendere il nostro livello e riposizionarlo dove era in questo modo abbiamo la nostra situazione di partenza inalterata andiamo ora a renderci conto che non esistono solamente i livelli di testo ma abbiamo anche per esempio un simpatico quadratino andiamo a vedere cosa possiamo fare abbiamo posizione, opacità e stile che funzionano esattamente nello stesso modo in più abbiamo vector mask position e vector mask enable ora perché abbiamo queste opzioni in più? perché questo è un livello vettoriale quindi come tale ha una forma vettoriale corrispondente se andiamo su tracciati vedete che abbiamo una forma corrispondente per cui se noi vogliamo spostare questo livello lo faremo con vector mask position andiamo a dargli un primo punto che sarà quello finale poi andiamo a spostarlo ed ecco che abbiamo il nostro spostamento però si fa con vector mask position in questo caso l'opacità funziona nello stesso modo lo stile funziona nello stesso modo vector mask enable è una cosa che francamente non ho mai utilizzato andiamo a vedere però come si comporta l'ultimo dei nostri livelli perché qui casca l'asino perché io adesso vi ho fatto vedere come si lavora su un livello di testo e come si lavora su una forma vettoriale ma la verità è che la maggior parte delle volte ci ritroveremo a lavorare con dei livelli raster che abbiamo importato noi con un logo raster che abbiamo importato con delle risorse delle foto qualsiasi cosa sia che abbiamo importato all'interno di photoshop ma che avevamo già lì non sono state create all'interno di questa sessione e quindi sono composte da pixel proprio come questo livello rosso vedete che questo livello è un po' carente per quanto riguarda le opzioni è quello che ha meno opzioni in assoluto di fatto possiamo gestire la posizione infatti se noi andiamo a creare un primo punto di posizionamento poi possiamo spostarci indietro sulla nostra timeline e trascinarlo e si crea automaticamente un secondo punto e quindi abbiamo il nostro spostamento e questo è pacifico allo stesso modo possiamo decidere che qui abbiamo un'opacità 100% mentre qui possiamo andare a mettergli un'opacità di 0 e in questo modo abbiamo questo effetto carino allo stesso modo possiamo decidere che in questo punto abbiamo nessuno stile di livello se vi capita come me di disancorare la timeline basta prenderla e rimetterla qui sotto diventa blu ed eccola di nuovo al suo posto la ritrasciniamo su in modo da vedere bene e anche dagli errori si impara andiamo a posizionarci nuovamente qui e andiamo a dirgli che vogliamo mettere un color overlay e ovviamente la nostra animazione si comporterà in questo modo molto caruccia molto ben fatta ci abbiamo messo pochissimo tempo però qui mancano delle cose perché per esempio non possiamo trasformarlo questo livello il che è un bel problema perché molte delle cose che vi ho fatto vedere prevedono una trasformazione attenzione però c'è una soluzione ovvero noi qui stiamo lavorando sul nostro livello questo lo vado a cancellare vedete che le opzioni che abbiamo a disposizione sono queste guardate cosa succede se io lo converto in un oggetto avanzato ora la prima cosa che succede è che si è chiuso io vado a riaprirlo e ecco qui adesso ho la mia trasformazione fondamentalmente photoshop ci stava avvertendo che trasformare un oggetto raster poteva comportare un danneggiamento una caduta qualitativa soprattutto se andavamo a ingrandirlo con un oggetto avanzato questo si dovrebbe verificare lo stesso ovviamente però noi abilitando un oggetto avanzato stiamo in qualche maniera dicendo a photoshop tranquillo lo so sono consapevole che potrebbe esserci una caduta qualitativa e quindi andrò a importare un file più grande in maniera tale da poterlo rimpicciolire senza perdere niente a questo punto se io mi posiziono su transform vado a posizionarmi in questo punto poi torno indietro sulla mia timeline a questo punto posso prendere command t e posso fare tutta una serie di cose che prima non potevo fare posso quindi andare a deformare per esempio il mio elemento se io mi posiziono su un angolo e tengo premuto command posso andare a modificare gli angoli sostanzialmente a piacimento e quindi posso andare a dirgli che inizialmente deve avere questa forma nel momento in cui gli vado a dire ok si è creato il mio keyframe e quindi la mia forma andrà a deformarsi in questa maniera allo stesso modo io gli potrei dire nuovamente con trasforma gli potrei dire che in questo punto vado qui a premere command t gli potrei dire che in questo punto lo voglio più piccolo quindi gli vado a dire scala in questo punto vado a scalarlo tenendo premuto alt e shift vado ad avvicinarmi il più possibile a zero quindi idealmente anche se ci vado vicino va già bene 0,1 è pressoché virtualmente zero e quindi qui lui va a ingrandirsi e a deformarsi fino ad arrivare in posizione proprio come prima ovviamente io qui posso dargli anche tutte le altre cose posso dargli anche uno stile posso dargli anche un'opacità la cosa più bella ovviamente è se io vado a mescolare tutti questi parametri per ottenere delle cose che poi lavorino insieme sperimentiamolo subito facciamo finta che questa sia la nostra composizione finale questo qui potrebbe essere il nostro logo o qualsiasi altra cosa cominciamo dal nostro livello di testo ci posizioniamo dove la nostra animazione deve essere sostanzialmente finita e gli diciamo che trasformazione opacità stile e text warp a questo punto devono essere finiti dopodiché torniamo indietro andiamo a dirgli che qui lo vogliamo rimpicciolire lo portiamo idealmente fino a zero non è neanche necessario perché tanto sarà così piccola che non si vedrà ovviamente la differenza quindi gli andiamo a dire innanzitutto questo poi gli andiamo a dire style in questo caso qui lo manteniamo sul nero e invece qui gli andiamo a dire che vogliamo un gradient overlay andiamo a dare uno qualunque gli andiamo a dare anche drop shadow quindi verrà fuori quest'ombra man mano che il nostro livello procede dopodiché gli andiamo a dare anche un bel text warp quindi qui il text warp sarà finito qui invece sarà in corso allora siccome io all'inizio non la vedo mi posiziono un pochettino più avanti prendo il mio strumento testo seleziono vado ad abilitare il text warp facciamo una cosa semplice mettiamo una bandiera vado a dirgli ok vado a crearmi da solo il keyframe e a questo punto vado a spostarlo io di persona al punto giusto per cui vedete che abbiamo ottenuto quello che volevamo nel senso che il mio testo nasce e viene fuori in questa maniera ora a questo punto potremo andare a chiudere questo livello ma invece lo teniamo aperto perché io devo vedere dove mi sono posizionato con i keyframe perché adesso andremo a fare qualcosa di analogo anche sui livelli sottostanti per cui per esempio abbiamo qui il nostro rettangolo e io potrei dire per esempio a questo rettangolo che qui deve avere un'opacità di tot mentre mi sposto più indietro qui invece potrebbe avere un'opacità di zero allo stesso modo potrei anche dirgli che qui deve avere questa posizione giusto però devo ricordarmi che devo utilizzare vector mask position perché questa qui è un livello che parte da una forma vettoriale quindi vector mask position finale è questa poi mi vado a spostare indietro e gli vado a dare un'altra posizione quindi comincia da fuori quindi avremo questo effetto con questo livello che si muove e si va infine a incastonare in quel punto andiamo a lavorare sull'ultimo dei nostri livelli l'abbiamo già trasformato in un oggetto avanzato quindi abbiamo già abilitato tutte le trasformazioni possibili se così non fosse tasto destro converte in oggetto avanzato per cui di nuovo qui gli possiamo dire che vogliamo che la trasformazione sia terminata in questo punto però possiamo anche tornare indietro e dirgli che in questo punto andiamo a premere command t in questo punto lo vogliamo più piccolo lo vogliamo ruotato di 120 gradi lo vogliamo ancora più piccolo più piccolo più piccolo 0,5 va più che bene tanto non si vede più per cui l'effetto che abbiamo a questo punto è questo qui ovviamente possiamo andare ad agire anche sull'opacità e sullo stile per cui nuovamente ci posizioniamo qui opacità 100% torniamo indietro e opacità 0% allo stesso modo ci possiamo andare a posizionare qui per dirgli che qui lo stile deve essere questo ma possiamo tornare indietro e tornando indietro gli possiamo dire che vogliamo magari un color overlay gli andremo andare a dare un colore che potrebbe essere questo pochino più chiaro adesso lo vediamo spostando il keyframe in posizione in questo modo quello che abbiamo ottenuto è questo effetto vedete che ogni singola componente della nostra gif cambia si modifica durante la nostra timeline fino ad arrivare al risultato finale questa è una gif piuttosto complessa che noi ovviamente possiamo esportare mantenendo la trasparenza dello sfondo quindi mantenendo la trasparenza anche dell'ombra è una cosa abbastanza avanzata che possiamo caricare sul nostro instagram tramite la piattaforma gifi come dimostrerò tra poco a questo punto però supponendo di avere terminato dobbiamo prima esportare il nostro lavoro quindi quello che facciamo è che andiamo su file non facciamo salva o salva come ma andiamo invece su export e gli diciamo salva per web questo è il pannello di dialogo che si apre come potete vedere manteniamo le nostre opzioni di trasparenza qui ovviamente la cosa importante è che dobbiamo andare a selezionare il formato corretto per cui andiamo in questo pannello e andiamo a selezionare un formato gif ora nella stragrande maggioranza dei casi io vi direi che un gif 64 va già bene se abbiamo utilizzato delle cose come ombre e sfumature il dithering e un numero più alto possono essere dei benefici perché ci permettono di gestire meglio i colori e le sfumature quindi io in questo caso gli vado a dire gif 128 con dithering ora vedete la prima cosa di cui mi rendo conto è che l'ombra non sta funzionando nella maniera corretta nonostante abbiamo abilitato la trasparenza questo è perché c'è no transparency dither quindi siccome abbiamo un'ombra per questo stiamo usando il dithering a questo punto dobbiamo anche provare a dare una di queste opzioni io provo diffusion transparency dither vediamo cosa succede ed ecco che la nostra ombra è tornata perfettamente a posto questa qui è un'anteprima di quello che sarà il nostro export per cui a questo punto io posso tranquillamente andare a salvare la mia gif in questo modo ovviamente possono esserci parametri diversi a seconda di quello che stiamo facendo potremmo volergli dare un numero diverso di colori una percentuale diversa di dithering potremmo andare a dargli delle opzioni diverse per quello che riguarda la riduzione del colore ci sono un po' di cose che potremmo andare a modificare ma questo parametro generalmente dovrebbe andare bene pressoché per tutte le gif che vogliamo esportare bene ora andiamo a vedere una volta esportata la nostra gif come si importa all'interno di gifi per ritrovarcela su instagram qui andiamo su upload qui in alto andiamo su upload e possiamo scegliere tra gif o sticker clip lo lasciamo perdere andiamo su sticker perché lo vogliamo trasparente quindi andiamo a selezionare la gif che abbiamo scelto questa è una gif che ho realizzato per un cliente che me l'ha chiesta quindi è sul suo account andiamo a caricarla qui come vedete c'è l'anteprima e mantiene la trasparenza noi andiamo a selezionare dei tag delle parole chiave che serviranno in primis al nostro cliente per trovare la sua gif all'interno del bottone delle gif di instagram e servirà anche ad altri utenti che vorranno andare a utilizzare la gif di questo evento a questo punto possiamo andare a inserire l'url ora l'url è più importante di quello che si pensi io qui vado a pescare esattamente l'url del sito del cliente perché gifi va a vedere il sito da cui viene fatta la richiesta e ovviamente ci concede di mettere online il nostro sticker solamente se il sito è un minimo autorevole quindi non basta un sito fatto l'altro ieri su wix andiamo qui a selezionare una collection in questo caso l'anno corrente e a questo punto siamo pronti a caricare la nostra gif ok vedete che sta caricando l'ultimo passaggio riguardo alla collection è assolutamente facoltativo non è obbligatorio io lo faccio voi potete anche non farlo torna utile quando cominciano ad essere tante vedete che qui l'abbiamo caricata con successo ha mantenuto lo sfondo trasparente ovviamente se andiamo a vedere questo è un account che è già un account business ha già diverse gif caricate che sono già online su instagram ovviamente dobbiamo avere un account business abilitato per poter fare questo giochino perché altrimenti non funziona questa qui è la nostra gif e queste sono le parole chiave che serviranno per richiamarla quando la vogliamo utilizzare nelle nostre stories bene amici questo è quanto per quanto mi riguarda per la creazione e il caricamento di file gif su instagram abbiamo visto come si creano abbiamo visto come si editano abbiamo visto come si caricano a questo punto dipende molto da quanto seguito avete su instagram perché se siete abbastanza seguiti potrete fare questa procedura se invece non avete abbastanza follower e questa è decisione insindacabile di gifi non vi verrà concesso di caricare le vostre gif direttamente sulla piattaforma ovviamente non è un grosso problema perché se ne può fare tranquillamente a meno però in questo video vi ho fatto vedere come si fa e se potete permettervi di farlo se avete abbastanza seguito vi invito a provarci perché comunque è una cosa in più che potete fare a questo punto io mi auguro che abbiate imparato qualcosa e se è così vi chiedo ovviamente di lasciare un like a questo video e di seguire il canale in maniera tale da rimanere aggiornati sulle prossime uscite per il momento è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video